Devi prenotare un hotel? www.gruppobooking.it È semplicissimo! Puoi prenotare online con un click e da qualsiasi posto in cui ti trovi. www.gruppobooking.it Ti aiuta a trovare l'hotel su misura per te al miglior prezzo presente sul web. www.gruppobooking.it Il portale di prenotazioni alberghiere semplice, immediato e sicuro. Che sia un viaggio di lavoro, di piacere, che tu sia solo o con tutta la famiglia. Gruppo Booking è quello che fa per te. www.gruppobooking.it Il meglio delle strutture alberghiere. A portata di click.